Cari amici, quest'oggi abbiamo visto nella prima parte della nostra lezione come uno studio della storia e dell'archeologia sia utile per comprendere il contenuto, il messaggio della Bibbia. Nella seconda parte invece ci siamo un po' avvicinati all'epoca del Nuovo Testamento citando anche qualche esempio concreto di utilizzazione di dati storici e antiquari per illuminare il discorso biblico. Adesso noi vogliamo continuare questa considerazione del Nuovo Testamento alla luce delle conoscenze della storia dell'epoca. Abbiamo già sperimentato precedentemente come i libri del Nuovo Testamento non sono il frutto di divagazioni metafisiche, filosofico comunque astratte, ma sono le testimonianze di uomini che hanno vissuto pienamente la loro epoca e quindi la lettura di questi Vangeli, di questi atti, di queste lettere e anche l'Apocalisse di Giovanni riserva allo storico qua e là delle informazioni che bisogna utilizzare. Dunque il Nuovo Testamento è una sorta di specchio che riflette tutto un ambiente, tutta una civiltà che è quello della Palestina e di alcune altre province romane nel primo secolo dopo Cristo. Facciamo adesso un inquadramento storico di questo primo secolo dopo Cristo. Abbiamo visto poco tempo fa come il secolo si inaugura con il principato dell'imperatore Augusto, il quale aveva posto termine ad un'epoca di guerre civili. Con Augusto inizia la dinastia Giulio-Claudia e abbiamo imperatori che seguono appunto Augusto quali Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Nerone è l'ultimo princeps appartenente alla dinastia Giulio-Claudia. Dopo il suo principato c'è un anno che è il 69 d.C. caratterizzato da guerre civili. È un anno che è sembrato particolarmente lungo e cruento perché abbiamo ben tre imperatori che si susseguono in breve arco di tempo come Galba, Otone e Vitellio. Il 70 d.C. è famoso come l'anno nel quale Gerusalemme, che era scesa in rivolta contro Roma, viene conquistata da Roma e con la fine di quest'anno 69 assistiamo infatti all'ascesa di una nuova dinastia che è la dinastia dei Flavi con Vespasiano, Tito e l'imperatore Domiziano. Tito da generale dell'esercito di Vespasiano conquisterà Gerusalemme. Ritorniamo adesso a vedere come alcune conoscenze di storia politica ci aiutano a comprendere le vicende e un po' anche la psicologia di alcuni protagonisti del Nuovo Testamento. Erode il Grande è tra i protagonisti più significativi della storia di Gesù e un po' di tutta l'epoca del Nuovo Testamento. Ora noi tutte queste cose le conosciamo principalmente grazie ad uno storico che ha partecipato come militante a questa rivoluzione contro Roma che termina appunto nel 70 d.C. con la caduta di Gerusalemme e nel 72 con la caduta dell'ultima cellula di resistenza giudaica, Masada, la famosissima Masada che è stata anche scavata da archeologi in epoca recente, dicevo questo scrittore ebreo che si chiama Flavio Giuseppe è un partigiano che combatte contro Roma. Quando poi si accorge che la causa degli ebrei era una causa che aveva pochissime chance di poter averla meglio effettua quel che è stato chiamato un tradimento, cioè passa a militare sotto le insegne dei Romani e questo è stato l'inizio anche della sua carriera e della sua fortuna. Flavio Giuseppe alla corte degli imperatori Flavi, la quale prenderà pure il nome appunto Flavio Giuseppe, compone delle opere che hanno come scopo quello di far conoscere ai lettori non familiari con la cultura giudaica quelle che erano le caratteristiche culturali, storiche, politiche e religiose del popolo di Israele e così Flavio Giuseppe ha il merito di aver scritto delle opere che anche noi possiamo leggere per capire come si svolgeva la vita quotidiana all'epoca di Gesù e della Chiesa Primitiva e queste opere sono la autobiografia, la guerra giudaica e le antichità giudaiche. Flavio Giuseppe ha scritto anche qualche altra cosetta però direi che le due opere principali sono appunto la guerra giudaica e le antichità giudaiche ed uno dei protagonisti di questa epopea descritta da Flavio Giuseppe che rientra anche nel Nuovo Testamento è appunto Erode il Grande. Erode il Grande come voi ben sapete è un re cliente di Roma cioè è un re che deve il suo potere all'imperatore Augusto. E' un re che ha avuto sempre un grande fiuto politico nello schierarsi con i vincitori del momento quel che si direbbe oggi un opportunista e dopo la guerra contro Marco Antonio Ottaviano Augusto diventa l'imperatore ed Erode il Grande è un re cliente appunto di Augusto. Per noi è famoso perché ha ristrutturato in maniera radicale il Tempio di Gerusalemme che è il monumento più grande della vita religiosa e civile e sociale anche dell'Israele dell'epoca di Gesù ma è meno famoso per aver intrapreso altre iniziative architettoniche. Certo Erode il Grande non gode di una buona stampa nel Nuovo Testamento è il re della strage degli innocenti è comunque un re che è visto di malocchio dai sudditi ebrei perché non aveva un albero genealogico per così dire completamente puro e che derivava direttamente da quello che era il seme d'Abramo. Erode il Grande è stato avversato e odiato in gran parte dai suoi sudditi perché oltre a costruire il Tempio di Gerusalemme si è reso promotore di altre costruzioni di carattere pagano. Erode il Grande ha infatti costruito nella città di Samaria che in quest'epoca si chiama Sebaste in onore dell'imperatore un Tempio appunto che veniva utilizzato per le cerimonie di culto dell'imperatore e di Roma. Ed Erode è famoso anche per aver finanziato con le sue ricchezze i giochi olimpici che erano una manifestazione sì sportiva ma anche una manifestazione collegata all'esercizio dei culti pagani. Un'iscrizione atenese ci trasmette il ricordo di Erode il Grande e lo definisce amico di Roma, il re Philoromaios, amico appunto di Roma. Ecco perché Erode il Grande è stato avversato e malvisto da gran parte dei giudei perché è vero che ha costruito il Tempio di Gerusalemme e lo ha fatto anche per tenersi buono come si suol dire parte dei suoi sudditi però d'altro canto era interessato anche a accattivarsi, a procacciarsi le simpatie dei pagani attraverso un programma edilizio e culturale filopagano. Altro personaggio notevole del Nuovo Testamento è Ponzio Pilato. Ponzio Pilato pure è stato visto di malocchio da questi giudei. Certo se noi leggiamo specialmente alla guerra giudaica di Flavio Giuseppe e adesso disponiamo anche di una traduzione italiana scorrevole pubblicata dalla Mondatori, noi ci rendiamo conto che questi ebrei mal tolleravano il dominio dei procuratori romani e tra i procuratori che vedevano come il fumo negli occhi c'era anche Ponzio Pilato. Perché? Perché c'è una incompatibilità religiosa e anche culturale tra questi magistrati romani pieni di cultura pagana e i sudditi che per motivi religiosi detestavano ogni manifestazione di paganesimo. Vi faccio adesso un esempio molto significativo. I procuratori a Roma, cioè i magistrati di questa provincia della Giudea, avevano la possibilità di coniare delle monete di bronzo. Voi sapete benissimo che per gli ebrei le rappresentazioni religiose, le immagini sacre, erano considerate una trasgressione ai comandamenti di Dio. Il prefetto Ponzio Pilato conia invece delle immagini di bronzo nelle quali noi vediamo il litus ed il simpulum. Che cosa sono? È presto detto. Il litus è un bastone che veniva adoperato dagli indovini romani. Quando i romani volevano trarre degli auspici per quanto riguardava il futuro o comunque conoscere una risposta da parte degli dèi, osservavano la natura. Osservavano a volte anche il volo degli uccelli nel cielo, in uno spazio ben definito. E questo bastone degli auguri era appunto quello di cui si servivano per tracciare uno spazio immaginario nel cielo, che veniva chiamato templum. Da questa parola viene l'italiano contemplare, cioè osservare con particolare attenzione. Dunque Ponzio Pilato fa raffigurare sulle sue monete questo bastone sacro degli auguri. E come se questo non bastasse incide anche il simpulum, che era una sorta di grande cucchiaio che serviva nelle cerimonie di libagione in onore degli dèi pagani. Quindi è un prefetto che vuole quasi provocare i suoi sudditi con queste emissioni monetare di carattere marcatamente pagano. Nel Nuovo Testamento troviamo un altro governatore della provincia di Giudea. Come si diceva prima, è un cavaliere di nome Felice. Felice era addirittura un ex schiavo. Prima vi ho parlato della schiavitù nell'epoca dell'imperatore romano. Bene, Felice era nato schiavo. Poi grazie a una fortuna che poteva accumulare nell'epoca dell'imperatore Claudio fu emancipato, fu dichiarato uomo libero. Ma oltre a questa libertà lui, grazie alle protezioni della famiglia imperiale, riuscì addirittura ad avere la qualifica di cavaliere e ad essere promosso procuratore della Giudea. Era quello che oggi si direbbe in termine moderno un parvenu, un uomo novus, un uomo dalle ricchezze recenti, dalla fortuna improvvisata. Ora Luca, nel libro degli Atti degli Apostoli, stranamente ci parla bene di tutti i magistrati, di tutti i funzionari, di tutti i militari romani, ma c'è un solo personaggio del quale ci parla piuttosto male, ed è Felice. Perché ce ne parla male? Beh, è un po' difficile a dirlo sulla scorta di questo breve capitolo 24 degli Atti nel quale lui ci dice queste cose, però il quadro che Luca, negli Atti degli Apostoli, traccia di Felice è molto simile alle informazioni che noi sappiamo sempre su questo stesso personaggio in storici antichi, quali per esempio Tacito e Svetonio. Tacito e Svetonio ci dicono che Felice governò i suoi sudditi con la mentalità di uno schiavo, ma con il potere di un re. E non vi ricordate forse quando Luca, negli Atti degli Apostoli, ci dice che Felice teneva Paolo in prigionia e mandava ogni giorno a chiamarlo e simulava interesse per la predicazione di Paolo al fine di estorcergli denaro. E questo è soltanto uno dei tanti particolari che Luca ci dà qua e là in questo capitolo 24 degli Atti degli Apostoli che caratterizzano a tinte fosche questo personaggio felice del quale ci parlano male anche gli storici antichi. Ma oltre a questi protagonisti della storia politica dell'impero romano dell'età Giulio Claudia, domandiamoci anche qual è il clima spirituale e religioso nel quale predicano i primi Apostoli. Certo, sarebbe bellissimo per capire il messaggio di Paolo calarsi un po' nei panni dei suoi ascoltatori per vedere qual era il tipo di religiosità che nell'epoca di Paolo era diffuso. Quando il nostro Apostolo visitava le grandi città dell'impero romano, Corinto, Atene, Filippi, Tessalonica, Roma, qual era la religione di questi ascoltatori antichi dell'Apostolo Paolo. La religiosità dell'epoca di Paolo è già profondamente diversa dalla religione romana tradizionale. Quest'ultima infatti era una religione formalistica, era un insieme di riti, di pratiche tramandate per una tradizione secolare che assicuravano la pace con le divinità, un legame cioè di protezione tra gli dèi ed il cittadino romano. Era quel che si so dire una religione piuttosto fredda, diremo in termini moderni inappropriati ma utile per capirci, una religione troppo formale e liturgica. Nell'epoca dell'Apostolo Paolo questa religione entra in crisi e lascia spazio a forme nuove di religiosità. Queste sono le famose religioni dei misteri che nascono nelle province orientali dell'impero e ben presto attraverso i commerci, il servizio militare, i matrimoni, gli spostamenti, i viaggi conoscono una diffusione in tutte le province romane. Che cos'erano queste religioni dei misteri? Beh, intendiamoci subito anche sul termine mistero. Il termine mistero sta ad indicare un tipo di esperienza di contatto col divino che non è aperta a tutte le persone ma è riservata soltanto a coloro che si rendono disponibili per una iniziazione. La cerimonia di iniziazione è, un po' come il battesimo cristiano, l'inizio di una trasformazione, di una esperienza che potremmo anche chiamare, tra virgolette, conversione. E grazie a questa iniziazione, alle esperienze connesse a questa iniziazione, il credente pagano entrava in contatto non con delle fredde divinità che proteggevano l'impero, ma con un dio che aveva vissuto, aveva sofferto e per questo poteva anche combatire i suoi devoti. Infatti nelle cerimonie dei misteri si rievocavano le vicende di queste divinità come Iside, Osiride, Mitra, Sabazio, Attis, Cibele, erano delle divinità che erano state vittime di forze malvagie, come per esempio il caso famosissimo di Osiride, erano morte ma poi erano risuscitate. Ed il credente, attraverso queste cerimonie di iniziazione, sperimentava una sorta di unione mistica con questa divinità. Con questa divinità nella sua sofferenza, nella sua morte, ma anche nella sua rinascita. Vedete come il linguaggio che userà Paolo per proclamare la buona novella di Gesù Cristo, ricalca queste che sono delle forme di religiosità estremamente diffuse nell'epoca dell'impero romano. Sono cioè delle forme di religiosità che non uniscono il cittadino freddamente alla divinità protettrice, ma vogliono stabilire un contatto diretto, intimo, caldo e soddisfacente dal punto di vista psicologico tra l'iniziando appunto e la divinità. Nell'epoca dell'impero romano sono diffuse anche le grandi filosofie ellenistiche e tra queste filosofie ce ne sono due in particolare che interessano un po' il lettore del Nuovo Testamento. Vi ricordate, cari amici, quando Paolo va a predicare ad Atene? Questo è un capitolo centrale del Libro degli Atti degli Apostoli ed è un capitolo che vuole semplificare l'impatto che il messaggio di Gesù ha con la capitale filosofica dell'epoca. Se noi leggiamo il Libro degli Atti degli Apostoli troviamo appunto al centro al capitolo 17 il discorso che Paolo fa all'areopago atenese. Che cosa sia quest'areopago poi è un argomento ancora discusso dagli studiosi. Probabilmente questo areopago più che essere una collina di Atene era una sorta di tribunale che era preposto a verificare se i professori, i predicatori, coloro che portavano delle dottrine, è vero, non costituivano un pericolo per la pubblica tranquillità. Bene, proprio in questo capitolo 17, negli Atti degli Apostoli, noi leggiamo che Paolo ragionava nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, queste persone pie sono i timorati di Dio, cioè sono dei pagani che hanno simpatia per il giudaismo e quindi frequentano la sinagoga. Quindi Paolo ragionava nella sinagoga sia con i giudei che con i simpatizzanti del giudaismo pagano. Ogni giorno con quelli che si trovavano ragionava sulla pubblica piazza, sulla agora che era il centro commerciale della città di Atene. Poi leggiamo anche che probabilmente proprio in questa agora atenese c'erano certi filosofi epicurei e stoici che conferivano con lui e alcuni di questi dicevano che cosa vuol dire questo cianciatore? Il termine greco è spermologos, cioè un chiacchierone, uno che semina parole. E altri invece dicevano egli pare essere un predicatore di divinità straniere. Ecco, pensavano che era uno dei tanti culti orientali che bussava alle porte della Grecia per reclamare nuovi convertiti, perché annunciava Gesù e la resurrezione. Allora, chi sono questi filosofi stoici ed epicurei che ascoltavano Paolo? Sappiamo anche che questa missione di Paolo ad Atene non è che sia stato un gran successo, perché di convertiti ce ne furono pochini pochini a prestar fede a quel che ci racconta Luca. Bene, i filosofi epicurei erano dei pensatori che ritenevano che gli dèi sì esistevano, però conducevano un tipo di vita beata, completamente immune da quelle che erano le preoccupazioni che caratterizzano la vita degli uomini. Gli dèi dunque esistono, ma esistono in spazi lontani e non si danno nessuna pena, nessuna preoccupazione di quelli che sono i problemi umani. Quindi predicavano una religione secondo la quale le divinità erano indifferenti, completamente, ai comportamenti e le vicende umane. C'erano poi anche gli stoici, ci dice la Bibbia. Questi stoici invece pensavano che la divinità non si trovava al di sopra ed al di fuori del nostro universo, ma era una forza che permeava la vita stessa del cosmo, dell'universo. Dunque tutto quel che noi vedevamo, la terra, il sole, gli astri, il cielo, era permeato da un logos, una razionalità divina. Ed il saggio era colui che riusciva a comprendere quest'ordine razionale della vita del cosmo e riusciva a comportarsi all'unisono, mettendosi in perfetta sintonia quindi con quest'ordine razionale. Ecco, queste sono le due principali filosofie che caratterizzano la società all'epoca di Paolo. Vi potete rendere conto di come il messaggio predicato da Paolo era profondamente e completamente diverso da questo delle filosofie ellenistiche dell'epoca. Vi faccio soltanto un esempio per comprenderci. Il termine che noi troviamo nel Nuovo Testamento, pronoia, significa provvidenza. Ora, questo vocabolo greco, pronoia, noi lo ritroviamo negli scritti degli stoici ed infatti costoro l'adoperano per indicare questa razionalità che è provvidenziale e che predispone ogni cosa nella vita dei singoli individui, degli stati e dell'universo. Invece, nel linguaggio teologico di San Paolo, pronoia sta a significare il proposito che il Dio ha nella vita di ciascun individuo. E qui vi renderete conto anche di uno dei motivi che ha portato al trionfo del Vangelo nella sua formulazione paulina su queste che erano le filosofie, in particolar modo la filosofia stoica. Perché la pronoia degli stoici, questa forza razionale che pervade l'universo, lasciava un po' indifferente, un po' freddo il cuore degli ascoltatori. Mentre la pronoia di Paolo è qualche cosa che fa appello al vissuto esistenziale, individuale di ogni individuo. E quindi serve ad istituire un rapporto personale preferenziale tra l'individuo stesso e un Dio che è persona. Un'altra grande forma di religiosità che caratterizza ampi strati dei cittadini dell'impero romano nell'epoca di Paolo è costituita dall'astrologia. L'astrologia non è che è stata diffusa soltanto nell'epoca dell'impero romano, ha radici antiche che risalgono alla Babilonia. Abbiamo anche un'astrologia egiziana e un'astrologia ellenistica. Ma su che cosa si basa questa astrologia? L'astrologia in quest'epoca prende a prestito dall'austoicismo l'idea di un ordinamento razionale dell'universo. Gli astri nel loro muoversi sempre preciso, organizzato e prevedibile, influenzano quel che avviene qui giù. Tutto quanto avviene in alto influenza ciò che avviene in basso su questo pianeta. Dunque l'individuo umano, quando nasce, è caratterizzato, è direi quasi impressionato, marcato, da un insieme di forze astrali che si esercitano su di lui e lo condizionano. Ci troviamo di fronte, cari amici, al determinismo astrologico. Il Nuovo Testamento non condanna esplicitamente questa teoria, però a mio avviso c'è un versetto che è molto importante e che vorrei leggervi tra poco. Immaginatevi come questo fatalismo astrologico facesse appugni con la predicazione cristiana. Eh sì, perché per gli astrologi, se una persona nasceva con dei condizionamenti pesanti del pianeta Marte, per esempio, sortiva da natura un carattere bellicoso e venere preposta invece ai piaceri. E ogni altro corpo celeste esercitava una influenza determinante sull'individuo. I cristiani invece sostenevano che un gladiatore o uno schiavo, se convertito, poteva acquisire non soltanto la dignità del figliolo di Dio, ma poteva sperimentare una metanoia, una conversione, un cambiamento radicale di quello che era la sua psicologia. Ed il suo essere. A mio avviso almeno una volta nella vita dell'Apostolo Paolo c'è stato un momento di frizione tra il predicatore della libertà cristiana e i seguaci di queste devozioni astrologiche. Vorrei invitarvi a leggere, o meglio a rileggere, perché sicuramente l'avremmo letto parecchie volte, nell'Epistola ai Romani di Paolo, al capitolo 8, almeno il versetto 38. Paolo qui formula il cosiddetto inno di vittoria dei credenti e ci dice Io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potestà, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura, potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Sicuramente vi sarete meravigliati, amici cari, di questo elenco di cose che potrebbero separarci dall'amore di Dio. Morte, vita, angeli, principati. E poi che cosa significa? Né altezza né profondità ci possono separare dall'amore di Dio. Ora, se noi studiamo i temi natali, o come si suol dire con termine più conosciuto, gli oroscopi scritti in greco, nei cosiddetti papiri magici greci, noi notiamo che questo termine altezza, iupsoma in greco, o profondità bathos, sta ad indicare il rapporto che c'è appunto nell'oroscopo tra un pianeta e l'altro, cioè le coordinate astrologiche. E Paolo qui vuol dire una cosa allora molto profonda, che non c'è nessun oroscopo, per quanto negativo possa essere, che può vincolare un individuo a quella che è la sua condizione di peccato e di schiavitù. L'amore di Cristo è di gran lunga più forte di quelli che si credono essere i condizionamenti astrologici. Perché? Perché questi corpi celesti, con tutti i loro rapporti di altezza o di profondità tra di loro, lo leggiamo alla fine di questo stesso versetto, questi altri, questi corpi celesti, sono pur sempre delle creature che non possono separarci dall'amore di Dio. A mio avviso, in questo versetto dell'Epistola ai Romani, Paolo sta conducendo una polemica contro i seguaci del fatalismo astrologico, i quali sicuramente avranno trovato ridicolo che tra i cristiani un omicida poteva riscattarsi, cambiare vita e diventava un predicatore dell'Evangelo. E contro questo tipo di pessimismo, autorizzatemi ad adoperare questo termine, questo pessimismo deterministico, insorge l'Apostolo Paolo ed usa dei termini molto noti ai lettori di questa Epistola che conoscevano il greco. E come se io oggi volessi dire a chi mi ascolta, amici cari, l'amore di Cristo è più forte di tutti gli oroscopi che vi hanno fatto. E niente potrà separarci da questo amore di Dio tramite Cristo né il vostro ascendente, né la posizione di Marte, né quella di Venere, né quella di Saturno, perché queste entità sono pur sempre creature di Dio e quindi sottoposte alla economia della sua grazia. Anche un libro particolare come l'Apocalisse di Giovanni è un libro che riceve grande luce se noi lo inseriamo in quella che è la storia dell'epoca. Bene, l'Apocalisse di Giovanni a mio avviso ha visto la luce nell'epoca dell'imperatore Domiziano, un'epoca durante la quale il conflitto tra l'impero romano e i cristiani stava per giungere a forme di persecuzione cruenta. E proprio nell'Apocalisse di Giovanni noi abbiamo delle attestazioni del culto dell'imperatore. Vi ricordate quando nella lettera alla comunità di Pergamo si parla del trono di Satana presso il quale è morto Antipa? Bene, questo trono di Satana probabilmente è un edificio di culto pagano. Forse il Tempio di Asclepio, famosissimo, forse il Tempio di Zeus Salvatore altrettanto famoso, forse anche il Tempio in onore dell'imperatore. Quindi questa citazione ermetica del trono di Satana di Pergamo si può capire se la si inserisce nella storia religiosa della provincia romana d'Asia dell'epoca di Domiziano. Ed anche queste famose profezie del capitolo XIII del quale vi ho parlato altre volte si intendono sullo sfondo appunto del culto reso all'imperatore romano che è paragonato ad una bestia che viene dal mare, perché Roma è oltre il mare per chi parla da Patmos come Giovanni, e l'altra bestia che viene dalla terra è che è da mettere in relazione con gli Augustales, cioè con i sacerdoti che nella provincia, quindi nella terra, vengono dalla terra, promuovono il culto di questo imperatore. E veniamo adesso a dire qualcosa delle parabole, le parabole di Gesù. Se Paolo utilizza degli esempi che sono tratti da quella che è la vita cittadina di un abitante delle città appunto dell'impero romano di quell'epoca, vi ricordate Paolo paragona l'equipaggiamento dei figlioli di Dio all'armatura del legionario romano, vi ricordate che Paolo spesso cita i giochi, le manifestazioni agonistiche che caratterizzavano la vita di queste città di cultura greca, invece il mondo di Gesù è il mondo della campagna palestinese del primo secolo dopo questo. E anche le parabole di Gesù risentono di queste immagini. Stiamo ben attenti a non interpretare le parabole di Gesù come spesso si fa, alla guisa di fatti raccontini edificanti che servono a tenerci buoni. È vero. Le parabole di Gesù quando furono pronunciate a mio avviso erano degli appelli che Gesù stesso faceva rifarendosi a situazioni molto concrete, qualche volta addirittura a situazioni politiche, per esigere dagli ascoltatori delle prese di posizione immediate, radicali ed impegnative. Certo, se noi potessimo rivivere quest'epoca travagliata che è la prima metà del primo secolo dopo Cristo della provincia romana di Giudea, capiremmo tante allusioni fatte da Gesù. Ma sono passati tanti secoli e quindi non ci rimane altro che recuperare delle conoscenze di storia civile ed economica per comprendere un po' meglio alcune allusioni fatte da Gesù nelle parabole. E così il capitolo venticinquesimo del Vangelo di Matteo ci parla della famosissima parabola dei talenti. Andiamola a rileggere. Matteo capitolo venticinque verso quattordici poiché avverrà come di un uomo il quale partendo per un viaggio chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni e all'uno diede cinque talenti a un altro due a un altro uno a ciascuno secondo la sua capacità. Questa parabola viene raccontata anche dal nel Vangelo nel Vangelo di Luca al capitolo 19 in una forma seguente. Per adesso rimaniamo nella versione data dall'Evangelista Matteo. E' inutile che io stia a leggere tutta la parabola che sono sicuro voi conoscete tranquillamente molto bene. Vorrei soltanto richiamare alla vostra memoria un particolare. Vi ricordate di quel servo infingardo e pigro che prende il talento ricevuto e lo nasconde. Dov'è che va a nasconderlo? Scava un fosso per terra e lo seppellisce. Perché? Perché secondo la legge dell'epoca quando una persona riceveva in prestito qualcosa si impegnava personalmente alla restituzione e quindi era responsabile in prima persona di quel che aveva ricevuto in custodia. C'era però secondo il diritto rabbinico una sola maniera per eludere a questa legge e bisognava volendo eludere seppellire quel che si era ricevuto in prestito. Così una persona se ne lavava le mani e declinava come si suol dire ogni responsabilità. Quindi questo servo pigro ed infingardo è un tipo che conosce la legge dell'epoca e per mettersi al sicuro si appella a questa legge e seppellisce il talento ricevuto. Vedete come una come dire una conoscenza del diritto rabbinico dell'epoca può anche illuminare un messaggio teologico dato da Gesù in questa parabola. in effetti Gesù sta contrapponendo la generosità di questo signore con l'atteggiamento miope letteralista del servo e questa contrapposizione diventa ancora più chiara se noi valorizziamo appunto questo dato che il servo invece di avvalersi della grazia di Dio di gran lunga superiore ad ogni umana legislazione si appella ad una clausola della legge rabbinica dell'epoca e quindi riesce soltanto a vedere quello che è il diritto umano casuistico della sua generazione e non va al di là non riesce ad apprezzare una legge che è la legge di Dio che è di gran lunga superiore a questi questi mezzucci assicurativi della giurisprudenza dell'epoca quindi un concetto di storia giuridica che ci illumina anche sulla teologia della grazia che è proclamata in questa parabola da Gesù prima vi dicevo che questa parabola viene riferita anche dall'evangelista Luca per essere precisi al capitolo 19 del suo Vangelo capitolo 19 verso 12 sapete tutti che Luca tra gli evangelisti è quello che ha più simpatie per la storia Luca è quello che ha fatto i sincronismi dei quali vi parlavo nella lezione precedente ed anche in questa parabola ci dice qualcosa di interessante e Gesù disse dunque un uomo nobile se ne andò in un paese lontano per ricevere l'investitura di un regno e poi tornare e chiamate a sé dieci suoi servitori diede loro dieci mine e disse loro trafficate finché io venga ma i suoi concittadini lo diavano e gli mandarono dietro un'ambasciata per dire non vogliamo che costui regni su di noi ed avvenne che quando egli fu tornato dopo avere ricevuto l'investitura del regno e gli fece venire quei servitori ai quali aveva dato il denaro per sapere quanto ognuno avesse guadagnato e trafficato il resto della storia lo conoscete benissimo quel che a me preme di dirvi è che qui Gesù fa un riferimento molto preciso ad un episodio storico che ebbe luogo nel 4 avanti Cristo in quest'anno infatti il re Erode il Grande del quale vi ho parlato prima morì e venne fuori il suo testamento nel quale il regno avrebbe dovuto essere diviso tra i suoi tre regni ora uno di questi figli di Erode il Grande Erode Archelao alla morte del papà se ne va parte e se ne va a Roma per ricevere dall'imperatore Augusto la ratifica del testamento del padre quindi questo nobile uomo perché qui si dice chiaramente che era un uomo di alto lignaggio probabilmente è una allusione a Erode Archelao il quale va in un paese lontano va a Roma per ricevere l'investitura di un regno e poi ritornare con tutta la legittimazione opportuna per governare se noi andiamo a leggere Flavio e Giuseppe che queste cose ce le spiega molto chiaramente noi sappiamo che gli ebrei erano così sazi di questo regno di Erode che non ne volevano più sentir parlare e vedevano di malocchio la continuazione di questo regno attraverso i figli e quindi mandarono delle delegazioni a Roma per parlare male di questi figli di Erode e per chiedere all'imperatore di organizzare il loro territorio in una provincia autonoma dipendente direttamente da Roma e qui infatti viene detto molto chiaramente che i suoi concittadini l'odiavano e gli mandarono dietro un ambasciatore per dire all'imperatore Augusto non vogliamo che costui regni su di noi chi continua a leggere questa parabola sa anche quali sono stati i provvedimenti disciplinari di quest'uomo nobile al ritorno della sua missione a Roma ed infatti Erode Archelao ebbe a vendicarsi di quei suoi sudditi che fecero tutto quello che era nelle loro possibilità per evitare che egni regnasse su di loro un'altra parabola di Gesù pure rispecchia una situazione sociale propria di quest'epoca e la troviamo nel capitolo 21 del Vangelo di Matteo Vangelo di Matteo capitolo 21 verso 33 è la famosa parabola dei cattivi vignaioli udite un'altra parabola vi era un padrone di casa il quale piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo per spremer l'uva e vi edificò una torre sembra quasi di vedere un insediamento agricolo della Palestina del primo secolo dopo Cristo e poi l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio e quando fu vicino alla stagione dei frutti mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti dalla vigna ma i lavoratori presi i servitori uno ne batterono uno ne uccisero e un altro ne lapidarono da capo mandò degli altri servitori in maggior numero dei primi e coloro li trattarono nello stesso modo finalmente mandò loro il suo figliuolo dicendo avranno rispetto al mio figliuolo ma i lavoratori veduto il figliuolo dissero tra di loro costui e l'erede venite uccidiamolo e facciam nostra la sua eredità e presolo lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero in quest'epoca i grandi proprietari terrieri della Palestina spesso abitavano in zone molto lontane già nell'epoca anteriore nell'epoca ellenistica noi sappiamo dagli archivi di Zenone cioè un archivio che ci è pervenuto tramite dei papiri egiziani sappiamo che molti egiziani avevano delle proprietà nella Palestina le proprietà terriere nella Palestina quindi qui si parla di un signore che ha questa proprietà ma risiede lontano della sua proprietà e c'è anche una allusione ad una situazione molto concreta la quale presuppone una legislazione secondo la quale se non si presentava l'erede a riscuotere la sua eredità gli occupanti potevano impossessarsi di questa stessa quindi qui ci troviamo di fronte a un padrone che abita molto lontano da quella che è la sua proprietà ci troviamo di fronte ad una legge che prescrive che se non si presentano delle persone a riscuotere l'eredità o se queste persone sono uccise coloro che lavorano la terra se ne impossessano e ci troviamo anche in un clima di grande agitazione e di grande sofferenza da parte dei contadini e degli artigiani di questa nazione che è proprio il clima che prelude alla guerra giudaica contro Roma del 66 70 dopo Cristo e per concludere io vorrei citarvi un caso di come un piccolo papiro attualmente conservato nella John Ryland Library di Manchester in Inghilterra ha potuto avviare a soluzione un problema che stava a cuore agli studiosi del Nuovo Testamento sapete che per quanto riguarda il Vangelo di Giovanni a causa del suo contenuto molto profondo direi quasi filosofico e anche della sua terminologia non sono mancati degli studiosi che lo hanno ritenuto composto nel secondo secolo dopo Cristo inoltrato quindi secondo il Vangelo di Giovanni non risale all'epoca apostolica ma è qualcosa di molto più tardo ora nel 1920 fu acquistato dal papirologo Grenfell una raccolta di papiri conservata appunto in questa biblioteca di Manchester nel 1935 questo papiro è stato identificato e studiato è un papiro molto piccolo che ci trasmette alcuni versi del Vangelo di Giovanni proviene dall'Egitto e viene datato con un ottimo margine di attendibilità intorno al 120 dopo Cristo dunque un testo per essere scritto in Egitto nel 120 dopo Cristo non può essere stato composto nel secondo secolo inoltrato ma sarà stato composto precedentemente prima in un'epoca tanto anteriore da consentire una circolazione di questo papiro dalla zona in cui fu scritto fino ad Alessandria d'Egitto ecco quindi un caso in cui la papirologia ha aiutato in maniera decisiva a collocare un testo biblico nella sua epoca precisa nella quale appunto questo testo stesso è stato composto e il papiro John Ryland di Manchester va ad aggiungersi quindi a quei reperti ed a quelle conoscenze antiquarie che ci servono per comprendere meglio l'epoca ed il messaggio del Nuovo Testamento e il messaggio